Si è conclusa domenica 24 gennaio con la Santa Messa presieduta dal Padre Vescovo la visita pastorale nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Bastia Umbra. Sono stati tre giorni in cui il Vescovo Domenico, nel rispetto delle norme anti-Covid-19, ha incontrato tra gli altri le monache benedettine, la carita sparrocchiale con i ministri straordinari dell'Eucaristia e l'Unitalsi, i membri del Consiglio pastorale e affari economici, le suore di Santa Filippa, le confraternite e gli operatori liturgici, i catechisti, i gruppi parrocchiali, gli scout e le nuove leve, i bambini della comunione della Cresima e la comunità parrocchiale.